Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato le note con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto negativamente, per assenza di presupposti giuridici, alle richieste di strada dei parchi di ottenere i finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza statica dei viadotti, successivamente alla conclusione degli interventi di antiscalinamento. La società che gestisce le due autostrade aveva presentato ricorso dopo il diniego alla realizzazione e al finanziamento di una serie di interventi sulla rete autostradale di A24 e A25, ritenuti necessari per la sicurezza dell'infrastruttura e l'incolumidità pubblica. Sono i famosi 117 milioni del Decreto Genova, soltanto annunciati da Toninelli e mai erogati o tantomeno formalizzati nei decreti, in modo che la strada dei parchi potesse operare attraverso anticipazioni bancarie. Il Tar, dopo aver osservato che le norme di riferimento sono di difficile lettura interpretativa, ha ritenuto che anche dalla lettura della relazione governativa sul tema, si evince la volontà del legislatore di finanziare tutte le cosiddette misure di sicurezza urgenti che non si esauriscono nella realizzazione degli interventi di antiscalinamento, ma che comprendono ulteriori interventi, quali quelli di messa in sicurezza sismica dei viadotti, per i quali la concessionaria ha presentato la richiesta di finanziamento. Inoltre, l'indicazione ricavabile dalla predetta norma è quella di realizzare tempestivamente gli interventi in questione, di cui l'incoerenza tra il principio espresso e gli atti di diniego opposti dal MIT alle richieste di strada dei parchi, che vede totalmente accolto il suo ricorso.